Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. È tornato l'Atlantico, è tornato il maltempo. Su buona parte d'Italia, da questo scatto satellitare, notiamo l'Italia sovrastata da un vero e proprio tappeto di nubi, quasi irriconoscibile lo stivale. Queste nubi portano e porteranno piogge anche abbondanti nelle prossime ore e nel prosieguo di settimana. Per quanto riguarda questo giovedì, in Abruzzo giornata simil autunnale, con tanti nubi per tutta la giornata, sprazie di sole praticamente inesistenti o al più presenti solo lungo le coste. Piogge diffuse nelle aree interne, più abbondante a ridosso dei monti, quindi in Appennino, con quota neve ancora molto alta, generalmente oltre 1800-2000 metri di quota. Entrosera fiocchi di neve che scenderanno attorno ai 1600 metri, specie sul Gran Sasso. Qualche piovasco sulle aree costiere del primo entoterra, però qui come potete osservare avremo fenomeni un po' più disorganizzati e più deboli rispetto alle aree interne. Le temperature stazionarie massime non oltre i 12-13 gradi. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo appuntamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.